Votiamo l'articolo 11, se nessuno chiede di intervenire. La votazione è aperta. Colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 440, votanti 393, astenuti 47, maggioranza 197, favorevoli 317, contrari 76, la Camera approva. Siamo all'articolo 12, ho bisogno del parere sull'unico emendamento che c'è, 12.1 Sarti. Invito al ritiro parere contraria. Grazie, il Governo. Grazie. Invito al ritiro parere contrario. Molto bene. Onorevole Sarti, siamo al 12.1. Lo mettiamo in... Prego. Sì, questo articolo ovviamente è molto importante perché è la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale e quindi il binario, diciamo, più veloce che questi procedimenti devono avere nei tribunali di prevenzione. semplicemente quello che si chiedeva è, dato che il dirigente dell'ufficio si dice deve comunicare sulla base delle indicazioni del CSM al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, questo si chiede di farlo con cadenza annuale e noi invece vorremmo inserire che i dati su questi procedimenti devono essere comunicati con cadenza semestrale, quindi ogni sei mesi e inoltre inserire anche l'Agenzia dei beni confiscati come soggetto a cui riferire di...